Alla seconda tappa del progetto Un ponte oltre i muri parteciperanno artisti di rilievo internazionale per dare il loro contributo alla cultura, alla solidarietà, grazie al loro intervento su tutto il viadotto della metropolitana, circa 3.500 metri quadri di cemento armato, brutto, grigio e deteriorato farà spazio ad una bomba di colori dal tema rigenerazione. Dopo l'esperienza di Chiaiano siamo venuti anche su questo posto a Scampia dove abbiamo pensato di portare anche qui un po' di colore e allegria in questo posto di bruttura e degrado. A questo progetto parteciperanno minori a rischio appartenenti a molte comunità del territorio di Napoli e parteciperanno anche diversamente abili, seguiti dall'associazione Augurabile e Set Me Free. Potete essere anche voi protagonisti con un piccolo aiuto sulla piattaforma www.meridonare.it. Grazie. Grazie.